Allora, questa pizza stasera la dedico ad alcuni francesi, a coloro che si sono permessi di fare l'elonia contro la pizza italiana, approfittando di questo stato di emergenza del coronavirus. Qua facciamo la classica margherita, che voi tanto ci invidiate, con i colori poi della nostra Italia, quindi abbiamo pomodoro, basilico e mozzarella. Eccoci qua, il prodotto finale è questo qua, ovviamente utilizziamo olio d'oliva extravergine italiano e abbiamo fatto anche una pizza per dire no alla pizza coronavirus che voi stupidamente, alcuni francesi, per fortuna non tutti, avete fatto, avete pensato molto male di fare e siete molto molto stupidi. Ciao! 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 Grazie a tutti